bentornati su ogni momento io sono marco oggi con grande piacere vi presento un nostro nuovo amico nostro nuovo collaboratore il suo nome è carlo zedda esperto in feng shui e l'ho conosciuto personalmente a milano un congresso e sono stato rapito dal suo carisma dal dal suo modo di essere oltre dalle sue competenze e qui quando in diretta quindi non resta che salutarlo ciao carlo grazie per essere con noi ciao marco e grazie infinite per questo invito dove nascerà una bella collaborazione andremo poi approfondire tante belle tematiche di questo straordinario mondo del del feng shui grazie te carlo allora come prima cosa la pronuncia corretta e feng shui giusto allora è scritto feng shui ok ti dico sinceramente tu puoi anche pronunciarlo come lo leggi perché troverai sempre qualcuno che ti dirà che non l'hai letto o non l'hai detto in maniera giusta quindi c'è che dice feng shui feng shui di feng shui ok io io lo pronuncio feng shui però anche feng shui credimi stiamo parlando della stessa cosa ok ok perfetto ti volevo chiedere innanzitutto per chi non lo conoscesse di cosa si occupa di feng shui e come ti sei approcciato a questa a questa materia questo splendido mondo da quello che tu mi hai fatto vedere beh l'approccio è la cosa più interessante ma prima di passare diciamo all'approccio spiego brevemente cosa è il feng shui è un'antica scienza millenaria cinese scienza ormai è una scienza a tutti gli effetti che mette in equilibrio i campi energetici di un ambiente tramite veri rimedi e riportando sin da subito armonia e benessere e su cosa si basa su basa sulle condizioni energetiche che noi abbiamo tra se stessi e propri spazi abitativi o di lavoro perché poi alla fine sono sempre una nostra estensione sono il nostro specchio quindi è ovvio che lì dove siamo in equilibrio con i nostri ambienti che di conto che il 90 per cento nostro tempo lo passiamo dentro i nostri ambienti i nostri spazi non dentro edifici quindi dobbiamo essere in buoni rapporti ecco infatti sarà capitato anche a te no di entrare in uffici in stanze in case i negozi dove magari non ti sei sentito bene ti sei sentito un po presso non vedevi l'ora di scappare via vero sì e in altri invece dove ti sentivi in pace cosa fa il feng shui in sostanza ti dà tutte le informazioni ti dà gli strumenti ok per poter gestire al meglio queste connessioni il mio approccio come è stato è stato proprio su questo su quelle che sono le sensazioni le mie prime esperienze formative e sono professionali ecco più che formative lo fate all'estero e in malesia in particolare si parla ormai di oltre vent'anni fa quasi una vita fa e io ho scoperto per me è stata una sensazione bellissima ho scoperto la bellezza l'armonia il benessere che c'era dentro tutti i loro spazi che potevano essere case anche modeste marco locali e soprattutto quello che mi aveva colpito era che si rispecchiava negli abitanti mi hanno spiegato poi la gente del posto mi ha spiegato che loro applicavano i principi del feng shui che oltretutto qui apro una breve parentesi non è una cosa prettamente orientale è molto conosciuta e molto usata in tutto il mondo anche nell'occidente l'italia penso sia uno degli ultimi paesi al mondo ma basta girare per l'europa basta andare anche solo in francia in austria dove ho fatto anche dei bellissimi lavori in germania o nei paesi del nord europa che tu ben sai sono molto più avanti noi più a certe cose però che lo insegnano e tra l'altro lo insegnano e feng shui è una è una pratica usata tutti i giorni e credimi benefici si vedono sin da subito ci sono persone importanti tra l'altro ecco famose se proprio vogliamo fare i nomi come steve jobs pace alla mia sua bill gates donald trump ecco che comunque loro del feng shui hanno fatto una filosofia di vita steve jobs in quasi tutte le interviste lo tirava fuori lui se pensiamo anche alla sede della apple silicon valley è uno degli esempi più belli di feng shui è straordinario e infatti poi il successo che ha avuto poi steve jobs sotto gli occhi di tutti poi alla fine e lui non ne faceva mai segreto e di questo tra l'altro a milano l'altro giorno che mi sono fermato poi qualche giorno di più proprio per fare tra l'altro delle consulenze e ho voluto andare all'apple store non so se sei mai stato in piazza liberty no a quello di milano no però conosco quello di torino che penso sia abbastanza simile bello grosso bene questo weekend andrò andrò a visitare anche quello è l'esempio perfetto di feng shui tieni conto che lì all'interno ci saranno state era un lunedì pomeriggio quindi non era un sabato una domenica ci saranno state qualcosa come buoni un centinaio di clienti e persone che ci lavoravano dentro il personale sono state buoni 20 25 persone e lavoravano tutti e c'era una carica energetica ma è il bello del feng shui che va a lavorare proprio su queste sensazioni e queste sensazioni c'erano tutte a livello inconscio le leggiamo la gente era era coinvolta era coinvolta era interessata ed era portata poi all'azione questo è molto importante e si vedeva era sotto gli occhi di tutti e poi dopo vi spiegherò il feng shui non voglio vedete tutto subito il feng shui individua anche nuove aree energetiche se voglio vado avanti marco vado avanti si vedi si vai mi sono incuriosito ti voglio ascoltare ancora bene allora qui entriamo nel vivo marco ok cominciamo a mettere le mani in bar cosa significa il feng shui e qua sta il passaggio chiave di questo straordinaria disciplina individua all'interno di un ambiente nuove aree energetiche queste nuove aree energetiche che possono essere nella singola stanza nell'immobile nell'intero immobile in un ufficio anche nel proprio tavolo da lavoro e perché lavoro molto anche su quello queste nuove aree energetiche sono ognuna è connessa a un aspetto specifico della nostra vita e qui sta la straordinarietà del feng shui e della sua applicazione questi aspetti sono il lavoro la carriera la ricchezza il denaro la famiglia la salute le nostre relazioni affettive gli amici la creatività dei progetti la fama la visibilità come ci vediamo anche noi e andando a lavorare su quelle aree energetiche guarda che vengono fuori delle cose straordinarie sin da subito bellissimo tra l'altro io come ho detto prima ci siamo conosciuti a un congresso a milano abbiamo fatto un bellissimo esercizio con te se nei prossimi video vedrete la casa la colpa è di carlo il merito il merito di merito e tu vedrai perché sarai tu che mi darai conferma di questo assolutamente andremo a vedere le prossime tue dirette saranno diverse vedrai andremo a lavorare anche un po sul tuo spazio sul sul tuo ambiente dove in genere tu fai le dirette verranno fuori delle belle cose vedrai sono contentissimo non vedo l'ora che ci accada allora carlo e per non dare troppi argomenti subito sì sì visto questo il nostro primo video insieme e cosa di ci chiudiamo con un consiglio un una proposta verso il pubblico chi ci segue un modo per far veicolare bene l'energia all'interno della casa in particolare oltre che all'ufficio oltre che nell'ufficio dimmi bella no bella cosa hai fatto guarda mi piace sta domanda anche come conclusione questa prima diretta sì è un esercizio potrebbe essere io ne ho accennato quel giorno al congresso a milano un esercizio è questo incominciare già a sviluppare questa sensibilità dei propri spazi nel senso iniziare già a riconoscere certe disarmonie o armonie che ci sono in casa le armonie vanno benissimo e da lì traiamo gioia traiamo serenità traiamo benessere traiamo armonia e questo poi si rispecchia in ogni aspetto nostra vita è bello anche iniziare la giornata così poi oltretutto le disarmonie li bisogna lavorarci se per esempio c'è un qualcosa in casa facciamoci caso perché c'è se non lo riconosciamo subito io invito sempre a fare un esercizio di entrare o di fare un come dire un giro virtuale per la casa o per il proprio ufficio perché no e incominciare a passare come dire in rassegna l'arredo la disposizione gli oggetti i soprammobili i colori l'illuminazione e le immagini molto importanti perché le immagini ci parlano in continuazione ogni cosa ci comunica una sensazione impariamo a gestirla queste sensazioni per poi trasformarla in beneficio per noi in armonia se uno non riesce subito cosa gli consiglio di fare di entrare in una stanza a caso di chiudere gli occhi ok in quel momento di sentire come dire lo spazio attorno perché si sente con gli occhi chiusi e andiamo a sviluppare gli altri nostri sensi impariamo anche questo sviluppare gli altri nostri sensi non c'è solo non ci sono solo gli occhi sentiamo i suoni sentiamo anche gli odori ok dopodiché apriamo subito gli occhi e vediamo dove lo sguardo si è posato si è posato magari su un qualcosa che vediamo tutti i giorni ma che non ci abbiamo mai fatto caso ed è un qualcosa che fosse in quel momento ci ricorda un qualcosa del passato un qualcosa che anche non vorremmo neanche più tornasse magari legato a un ricordo di dolore di sofferenza benissimo prendiamo quell'oggetto e lo buttiamo nell'immondezza ok incominciamo a fare una una sorta di pulizia energetica ok e le cose incominciano a cambiare ci si vanno a sbloccare alla fine era einstein o che sosteneva che siamo esseri vibrazionali in un ambiente vibrazionale e una volta che ci connessi che ci connettiamo con questo ambiente e gli andiamo a proiettare quelle che sono i nostri desideri nostre ispirazioni nostri obiettivi quelle ci tornano sempre tutte indietro incominciamo a lavorare sul nostro spazio e cose straordinarie vengono fuori marco veramente ne sono convinto grande carlo sono molto contento di questo nostro primo video assieme bene e ricorda tutti che tutti i contatti di carlo link li trovate nella descrizione poi in basso e ringraziamo carlo per il suo tempo spero che ci tornerà a trovare presto molto presto molto presto perché voglio vedere già i cambiamenti sai lì da te ti sto colpiato sul collo no fate gli scherzi sarà una cosa piacevole e il bello che verrà tutto in maniera molto naturale vedrai grazie mille carlo assai ci vediamo presto grazie ancora per il tuo tempo grazie mille ciao e ciao grazie ciao ciao grazie a tutti per la visione di questo video ancora un ringraziamento a carlo zetta per il suo tempo la sua disponibilità e ci vediamo presto ciao a tutti ok grazie ciao ciao